E' noto a tutti quelli che sono nelle aule di giustizia e come dimostra anche questa pubblicazione si forma una sorta di consenso apodittico molto spesso e comunque scarsamente motivato alle indagini ritenendo che le indagini costituiscano una prova completa della colpevolezza di una persona. Questo è determinato dal fatto che nel nostro Paese è difficile far penetrare la cultura del giusto processo, di un processo liberale democratico dove la prova si forma a dibattimento. Allora il dibattimento sembra servire a poco e la condanna viene scolpita dalle indagini e dal processo virtuale. Evidentemente anche tutta questa informazione ha una ricaduta sui testimoni, sui giudici che devono giudicare e si forma quindi questa sorta di convincimento parallelo al processo che è difficile poi da smuovere e da rimuovere. E questo credo che sia un danno clamoroso, un danno evidente sotto gli occhi di tutti perché tutti quanti noi siamo influenzati dalle informazioni, dalle notizie che riceviamo, da come le riceviamo e anche da chi le promana. E quindi tante volte se le indagini vengono viste come indagini fatte dalle procure si immagina che il magistrato che conduce quelle indagini sia naturalmente dalla parte della verità e che non si smuoverà più quella verità acquisita. Grazie a tutti.